Ragazzi, buongiorno! Alcuni di voi, senza pudore, hanno chiesto a sottoscritto, come se il sottoscritto ne avesse competenza e merito, un parere su quello che sta succedendo in questi giorni. Dirò poche parole perché non è il mio campo di pertinenza, non sono un politologo, non sono un gioco politico, in pratica non sono nessuno, che sia ben chiaro. Io sto e starò sempre dalla parte di chi è stato aggredito, di chi è stato attaccato e dalla parte delle vittime e sono e starò sempre dalla parte dell'Occidente e dell'Europa che si è sempre schierato contro la guerra e le guerre di aggressione. Perché, che se ne dica, la Nato non ha mai invaso, se non aggredita, un suolo straniero. Spero di chiudere il discorso quanto prima. Se qualcuno si azzarderà nei commenti a voler fare polemica, a voler esprimere la sua opinione non richiesta, lo bannerò con sommo piacere. Che sia ben chiaro, ma oggi andiamo a parlare di quello che è il più grande, a mio avviso, giocatore ucraino di tutti i tempi. Si potrebbe definire un vero e proprio genio, ma, come dico sempre io, parlare di genio negli scacchi è un pochettino largo come termine. Di sicuro, Vassili Ivanchuk ha tutte quelle caratteristiche che ne fanno lo stereotipo del genio scacchistico. Peccato che il suo carattere, la sua fragilità nervosa, gli abbiano impedito di arrivare a livelli un po' più alti. Andiamo a vedere subito la partita. Giocata Weekend Z nel 96, Ivanchuk col bianco. Di 4, vado veloce perché è tutta teorica. In pratica Semislava, variante Botvinnik. Si, si, è tutta teorica, lo dico per chi non lo sapesse, dico sempre di non studiare l'apertura e figuriamoci questi casini allucinanti. Cerco di fare ora fra poco soltanto un recap. A questo punto, bene. Ancora una posizione teorica, che ai tempi era molto giocata e prediletta da giocatori aggressivi col bianco e aggressivi col nero. Il bianco cercherà di aggredire l'avversario sul lato di donna, approfittando del fatto che l'arrocco nero è naturalmente disastrato, e in un eventuale finale cercherà di far valere il pedone H passato. Il nero a sua volta cercherà di avere controgioco al centro e cercherà di crearsi un pedone passato sulla colonna C, spingendo in B4, in C3 e così via. È una partita allucinante, un bordello tattico incredibile, basta sbagliare mezza mossa e perdete tutto. B4 ancora teorica ai tempi, non vi sto qua a spiegare. Cavallo A4, torno a B5, A3 ancora teorica. E per D, A per B, C per B, alfiere E3. Ecco, questa è la prima mossa che diciamo non è propriamente il top della teoria, anche perché la teoria si evolveva di giorno in giorno. Possiamo soltanto dire che il bianco adesso ha gli alfieri entrambi puntati sull'arrocco avversario, la colonna A aperta e è bello aggressivo. Il nero adesso deve impedire a tutti i costi la diagonale A7 e E3. Ma vediamo prima una piccola variazione per capire come si potrebbero sviluppare queste partite. Qualcuno giocò anche cavallo E5, questo era Nikolic Westerinen, un 82. la partita andò avanti in questo modo. Donna D4, cavallo C6, G4, andiamo un pochettino veloce, per fare capire più che altro il senso di come possono evolversi date partite, notare come il nero sviluppa velocemente le torri su colonna D. E qua il bianco poi vinse. Si poteva giocare su cavallo E5 anche alfiere per A7. D4, cavallo B6, insomma, qua è normale sacrificare pezzi, non ci fate caso. Vado veloce, solo per fare capire un pochettino come potrebbe proseguire tutto il discorso. E qua finì addirittura pari. Stavo dicendo, questa invece è la partita di Ivanchuk. Su alfiere E3, Shirov decise di giocare cavallo C5 per chiudere la famosa diagonale. Donna C4, qua Shirov giocò torre D7. Non sarebbe stata migliore Re B8 per donna D4, un tema classico pattern di sacrificio o pseudo sacrificio. Torre A8, qua bisogna dare la donna ovviamente. E anche qua il bianco andò in posizione stravinta e poi finì per vincere. Su torre D7, qua Ivanchuk si uscì la super mossona di quelle che si vedono poche volte negli anni. Invito tutti quanti a bloccare il video e a cercare di indovinare l'incredibile mossa di Ivanchuk. Bene, chi l'ha trovata, complimenti, magari la conosceva, ma se non la conosceva l'ha trovata veramente i miei complimenti. Io Ivanchuk giocò l'incredibile donna C7. Vabbè, sacrificio di donna per due pezzi leggeri. Ovviamente si prende. Sì, per forza di cosa bisogna spostare la torre e dove va la torre. Allora, se andava in D8, poteva seguire cavallo per C5, torre C7, alfiere H3, Re B8, con incredibile posizione imbordellata. Posso fare un piccolo esempio. Faccio vedere velocemente come si poteva continuare. Con incredibile cavallo per E6, F per E6, alfiere A7, Re A8, alfiere B6 e ovviamente c'è patta. Se Re C8, alfiere per E6, quale torre mettiamo? Allora, su, vediamo, vediamo. Dunque, torre D7 non si può mettere che segue la promozione con matto. Quindi bisogna mettere per forza l'altra. E a questo punto si potrebbe giocare alfiere D4, con incredibile e bordellosissima posizione. Invece, Shirov decise di giocare torre G8. Ovviamente cavallo per C5. Qua, cosa si può giocare adesso? Per esempio, è chiaro che non è uno di quei, come dico io, sacrifici matematici, ma è un vero e proprio sacrificio posizionale, perché ci sono tantissime cose che il nero può giocare, in cui il bianco ovviamente non poteva prevederle tutte, e bisogna analizzarle una per una. Per esempio, se noi adesso giocassimo torre C7, potrebbe seguire presa torre per B7, torre Df in D1. Sto vedendo le analisi del tempo, perché se no analizzare questa partita richiederebbe mesi. ora non va bene per dire torre per G7, torre D5, donna D8, torre C5, con partita vinta. Quindi si giocherebbe torre D7, alfiere D4, di nuovo con netto vantaggio del bianco, grazie al pedone G7. Consiglio a tutti quanti di analizzare la partita, che male non vi fa, al solito. Shirov, nel caddo della partita, decise di giocare attivo e diede un pedone. Fiere per B7, torre per B7, cavallo per B7. Ovviamente si minaccia cavallo D6 scacco. Ora, su donna per B7 o re per D7, seguirebbe alfiere per D4 e poi torre Df in D1, sempre con netto vantaggio. Quindi Shirov gioca donna B6, ma ugualmente segue alfiere per D4. Donna per D4, torre Df in D1, donna B2, almeno muoio a pancia piena. Scacco. Do si va. Un B8. Torre Db1, donna per G7, ma questo si vedrà in seguito, è stato un grave errore. Sarebbe stato meglio giocare qua donna D2, cavallo per C4, donna C3, e incredibilmente la mossa migliore era torre A4. Sempre con incredibile e bordellosa continuazione. Shirov giocò donna per G7, torre per B4, che giocare su re A8 seguirebbe torre Db in A4. È sempre grande casino, poi segue anche cavallo B5. Quindi, semplicemente Shirov giocò re C7. E' incredibile la mossa migliore e più bella di tutte, sempre l'ha trovata Ivanciuk, che è torre A6. Notare come il bianco gioca benissimo e in maniera tremendamente coordinata. Qua quasi obbligatoria torre B8. Adesso si scacco, perché si riprende la torre. E ora, cosa giocare? Cosa giocare su C3 seguirebbe torre C8. Shirov giocò donna G4, ma dopo torre D8, re C6, torre A1, ovviamente abbandonò. E dico per tutti gli scarsoni all'ascolto, perché si abbandona una partita del genere? Perché due torri sono più forti della donna. Per il semplice motivo che sono due pezzi ad attaccare e la donna è una a difendere. Se entrambe le torri attaccano il pedone C, la donna da sola non le può difendere. Quindi si andranno a mangiare semplicemente tutti i pedoni. Wow, che partita incredibile. Io ovviamente, ma lo so che sarò sempre e continuamente inascoltato, consiglio a tutti di metterla su una scacchiera, di andare ad analizzare, dico soltanto che attualmente, nella moda attuale, questa posizione non è più così tanto giocata, perché appunto è foriera di troppi tatticismi, troppi casini e in un periodo di computer, semplicemente qua qualcuno potrebbe uscirti la mossa che è venuta fuori da una settimana di analisi da computer, è rubarti il punto. Quindi quasi tutti oggigiorno giocano un'altra variante, ovvero sia su alfiere G5 giocano l'immediata H6. Che su alfiere H4 si gioca G5 e poi si va così, adesso veramente il pedone, il nero dovrebbe tenerselo. Anche se in questa variante il bianco ha molte, molte, molte frecce a suo arco e consiglio di andarsi a vedere anche queste belle posizioni che ne derivano. Oppure, oggigiorno sempre su H6, semplicemente si mangia, si dà la coppia degli alfieri e si gioca una partita molto più posizionale, più, tra virgolette, tranquilla. Va bene, ragazzi, questo l'ho voluto giocare ricordando e omaggiando il più grande giocatore ucraino di tutti i tempi, spero che in futuro potremmo anche ritornare a vedere cose più normali. Ho in mente, l'ho anticipato sul mio canale, di fare qualcosina tipo una rubrica pillole di strategia qualcosa di pochissimi minuti dove do delle informazioni proprio flash di livello molto basso ma tutto ciò sarà in ogni caso legato a quanti visualizzazioni avrà detto video che comunque proverò a fare quanto prima. Un caro saluto, un bacione a tutti, mi raccomando, iscrivetevi, ditelo in giro non sia mai che qualcuno voglia imparare qualcosa di serio. Un caro bacione a tutti. Un caro saluto, un 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 bacione a tutti.